Zaffagnini, un'emozione straordinaria, la prima al Dallara, tu da Bolognese Doc, una vittoria storica? Storica, ma è stata un'emozione unica. Abbiamo fatto una buona partita, ci hanno ripreso il secondo tempo, poi i supplementari ci siamo venuti fuori bene. Ci è avverato un sogno. Tra l'altro una vittoria in cui anche un segno della squadra, tu da capitano al Dallara. Era un caso? I ragazzi, il mister, sono stati anche troppo gentili, sapendo che ero di Bologna, mi ha fatto fare il capitano, mi ha dato la fascia. È stata un'emozione ancora più grande, li ringrazio tutti. Primo tempo l'Aquila, secondo tempo a Bologna che è uscito fuori con delle scintille importanti, poi però con il carattere, oltre che con anche tecnica e velocità, sei riusciti a tornare nuovamente in vantaggio a fare la partita. Sì, queste partite le vinci col cuore, abbiamo dato tutto fino alla fine, non ci siamo risparmiati e abbiamo portato a casa la vittoria. Presidente Chiodi, in una serata storica arriva una vittoria altrettanto storica. Sì, importante, importantissima. Abbiamo dimostrato di avere la squadra giusta, un'ossatura importante, con le basi vere, un ritiro importante. Il fatto di averlo fatto, forse con un'altitudine di mille metri, ha fatto sì che siamo riusciti in due partite consecutive ad andare oltre i tempi supplementari. Quindi questo dimostra che è stato fatto un ottimo lavoro. Abbiamo giocato bene, ce la siamo meritata la vittoria, potevamo fare forse molto di più, però va benissimo così. Io sono soddisfattissimo, è stata veramente una vittoria che ci ha dato la forza, una forza tale da iniziare veramente un campionato importante. Tra l'altro i complimenti anche prestigiosi a fine partita, quelli di Gianni Morandi. Certo, Gianni Morandi mi ha dato la mano complimentandosi, è stato veramente uno sportivo doc, lui come lo è in effetti, perché lui non fa parte della dirigenza, ma so che lui partecipa nel contributo della squadra, quindi è uno che nel calcio ci crede. Ci ha fatto i complimenti per diverse ragioni, una quella della squadra, della compattezza e anche della correttezza della squadra e anche dei tifosi, perché ha detto tifosi del genere, veramente io non l'avevo mai visti. Cantare 120 minuti consecutivi è stato veramente una cosa lodevole. Ultima battuta, l'appetito viene mangiando, adesso arriva l'Empoli domenica prossima per sognare ancora. Certo, l'Empoli è un'altra partita importantissima, neopromossa, hanno una formazione fatta per una Serie A, non lo so, probabilmente noi e il nostro contropiede sarà quello del fatto che loro ci prenderanno forse un po' con meno attenzione, però io sono convinto che noi possiamo fare bene come l'abbiamo fatto oggi, oggi è stata veramente meritata la partita e quindi sappiamo tutti che anche domenica possiamo fare qualcosa. Grazie.